Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Pesaro capitale della cultura. A meno di 24 ore da una domenica sera nel segno del varo di un'icona di modernità come la biosfera, è con lunedì mattina all'insegna invece del passato rinascimentale e della tradizione istituzionale. A Palazzo Ducale, sede della prefettura, sono state presentate ufficialmente moneta e francobollo celebrative di Pesaro capitale della cultura 2024. Novità annunciate in una mattinata cominciata con la cerimonia in costume con tanto di proclama di Guido Baldo II della Rovere e conclusa con decine di collezionisti in coda nella sala laurana per munirsi dei due cimeli. Ogni anno il Ministero delle Imprese del Made in Italy certifica una città come con il francobollo della capitale euroitaliana della cultura. È un ottimo riconoscimento, un bel riconoscimento far parte di queste elite di città che vengono scelte assolutamente per il proprio operato nell'ambito della cultura stessa. Quindi sicuramente è lo Stato che certifica un comune virtuoso nella cultura. La tiratura del francobollo è di 250.020 esemplari e del valore nominale di 1,25 euro. La moneta in rame, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è realizzata dall'artista incisore Uliana Pernazza e prodotta presso le officine della Zecca dello Stato. Ha un valore nominale di 5 euro e una tiratura di 4.500 pezzi vendibili a 45 euro l'uno. Palazzo Ducale troneggia sul francobollo così come sulla moneta dove sono anche raffigurate la fontana di Piazza del Popolo e Rocca Costanza. Noi annualmente celebriamo quei tasselli che rappresentano quel fantastico mosaico della cultura italiana. Da qualche anno abbiamo ricominciato a coniare le singole monete che celebrano le capitali italiane. Una città rinascimentale con la storia che è a Pesaro rappresenta un soggetto bellissimo da studiare e da riportare all'interno di una moneta. Sono molto felice e orgogliosa sia come prefetto ma consentitemi anche ormai come cittadina di Pesaro di vedere riprodotto proprio la facciata sia sulla moneta che sul francobollo. Quindi siamo stati molto felici sia io che il direttore regionale dell'Agenzia del De Manio nel dare la nostra autorizzazione nella riproduzione della facciata. Aggiungiamo altri due simboli invece che hanno a che fare con la storia del nostro paese, il francobollo e la moneta. Sono due simboli ufficiali che rappresentano appunto l'evento storico che stiamo vivendo e che rafforzano la nostra promozione, rafforzano la nostra comunicazione e le danno anche un'autorevolezza istituzionale. Quindi siamo davvero molto grati per questo. Tanti collezionisti già ci stanno chiamando perché vogliono sia la moneta che il francobollo. Ma questo aspetto ovviamente rafforza ulteriormente l'istituzionalità, l'ufficialità, l'autorevolezza di una capitale della cultura storica per la nostra provincia che segnerà ulteriormente il modello di sviluppo dei prossimi anni. Quindi siamo molto contenti e aggiungiamo simboli su simboli. Il prossimo simbolo sarà un'opera strategica perché giovedì inaugureremo l'auditorio per Scavolini, la lunga ristrutturazione del vecchio palazzetto dello sport. Anche quello è un simbolo che rinasce e che rappresenterà anche la città di domani. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo.